Sarà il derby degli ex quello che si giocherà sabato tra Praia e Cat Tortora, Zuccarelli, Lamboglia, Caruso, Forte, Chiappetta, Favieri oltre ovviamente al tecnico Giampaolo Gentile, sono stati infatti tra gli artefici delle fortune del Cat negli scorsi anni prima di passare a Praia nell'attuale stagione. Potrebbe essere un derby diverso rispetto allo scorso anno. Il 16 gennaio si giocava la terza giornata di ritorno e Praia e Tortora, penalizzazione a parte, avevano raccolto sul campo rispettivamente 29 e 23 punti. Decise Pepe a pochi minuti dalla fine, vendicando il 3 a 2 in rimonta, inflitto dal Cat e Cugini praiesi, ma il finale di partita fu macchiato da una indecente maxirissa. Lo scorso anno entrambe le squadre viaggiavano in posizioni di classifica medio-alte, oggi il Praia con 20 punti insegue la zona play-off, mentre il Cat occupa l'ultimo posto in classifica a quota 5. Umori nettamente diversi nei due spogliatoi e se a Praia le tre vittorie consecutive hanno ridato ossigeno agli uomini di Gentile, a Tortora Tripodi spera nei rinforzi che Salvatore Montebello ha già portato in dote. Si tratta di due centrocampisti, Grosso ex Belvedere e Ramondo ex Agropoli. Dopo questi innesti, con buona probabilità, qualcuno andrà via per non sforare il risicato budget a disposizione, aspettando che domani la nuova riunione aperta al pubblico avvicini qualche altro socio. Anche a Praia si lavora per puntellare la rosa e anche qui il reparto più attenzionato è il centrocampo. Il protopapo è un ritorno già ufficiale per lui e Mattias Luis Villaruel, classe 1987, trequartista che all'occorrenza ricopre anche il ruolo di centrale di centrocampo, potrebbe invece firmare nelle prossime ore e debuttare proprio nel derby. Non saranno nella gara a Quinoa del Praia, nuovamente fermato dal giudice sportivo e pettinato del cat Tortora i box per due turni dopo l'espulsione rimediata sabato scorso contro la Paolana. Il cat dovrà mettercela tutta, il Praia non sottovalutare l'avversario.